Paola Caruso in lacrime a Domenica Live, sono stata adottata dai miei genitori Domenica Live, Paola Caruso rivela di essere stata adottata dai suoi genitori. Paola Caruso è stata adottata e non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali. Dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo, la bonus di Avanti Un Altro ha confessato questo delicato segreto della sua vita privata solo ora, a Domenica Live. Con il volto rigato dalle lacrime, la showgirl calabrese ha rivelato a Barbara Durso di essere stata adottata e di aver scoperto la verità per caso, quando aveva solo 13 anni. Nonostante tutto, Paola è molto legata ai suoi genitori adottivi, sullisola dei famosi, reality show al quale ha partecipato qualche anno, ha ricordato in più di unoccasione il padre scomparso tempo fa per una brutta malattia. . Padre che dunque era adottivo ma che per la Caruso è stato un padre a tutti gli effetti. . Le parole di Paola Caruso per i genitori adottivi. Ho avuto i migliori genitori del mondo e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per me ha dichiarato Paola in diretta televisiva. Lo Caruso ha poi spiegato di aver scoperto la verità a 13 anni grazie ad unamica, la figlia di una coppia di amici dei genitori, anche lei adottata. . Mentre stavamo parlando mi ha detto, anche tu sei come me, sei stata adottata. . Sono rimasta senza parole ha confidato lex naufraga, che ha aggiunto, i miei genitori hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse perché non volevano perdermi. . . . . . Linvito di Barbara D'Urso per Paola Caruso. . Barbara D'Urso ha poi invitato Paola Caruso a tornare a parlare di questa vicenda che ha inevitabilmente segnato la vita della ragazza. . 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